Per tre motivi principali, perché è un momento di condivisione e comunicazione, perché è aperto a tutti, stamattina ho sorriso quando all'ingresso ho visto una scolaresca di bambini e delle elementari, e per il nome, perché si parla after, guarda verso il futuro, futuro nostro, futuro del paese, e spero che lavorando insieme questo paese possa essere un po' meno bistrattato e migliore.